Una richiesta di accesso ad atti inerenti appalti che prevedevano lavori all'interno dell'asla di Pescara. Il consigliere regionale, Domenico Pettinari, si è visto negare questo diritto e così, dopo essersi rivolto all'organo competente, è arrivato un parere inatteso. L'obbligo di concedere quell'accesso al consigliere pena una sanzione disciplinare, rivolta nei confronti del direttore generale con lui l'organo politico che lo ha nominato. In pratica, a pagarne le spese potrebbero essere Claudio Damario e Luciano D'Alfonso. Qualche giorno fa mi arriva questo parere, questa sendenza storica del Collegio per le Garanzie Statutari che mi dà ragione piena, dicendo che l'Als non poteva negare l'accesso agli atti, non solo che i consiglieri regionali e comunali anche nell'esercizio delle loro funzioni debbono ottenere tutti gli atti amministrativi, documenti amministrativi, sia dell'ente di appartenenza che degli aziende dipendenti. Infatti l'Als è un'azienda dipendente, non solo nel caso in cui, in presenza di niniego degli accessi agli atti, può essere attivata la responsabilità disciplinare del dirigente o del direttore generale dell'Als. A questo punto cosa ho fatto? Ho presentato un'interpellanza regionale, presidente della regione Luciano D'Alfonso, chiedendo se ha già attivato un procedimento disciplinare nei confronti dei vertici dell'AT, come appunto scritto dal parere del Collegio per le Garanzie Statutarie, se non lo ha fatto, se intenderà farlo. Ad aver destato l'interesse del pentastellato pettinari appalti riguardanti la realizzazione di nuovi reparti e le strutture in questi contenuti, oltre a fondi ricevuti per il terremoto 2009. L'adeguamento di reparti, la costruzione di nuovi reparti, ci sono appalti molto importanti, poi chiedevo di verificare anche di accedere agli atti a un bando per la gestione calore dell'Als di Pescara e di conoscere le entità delle somme che erano state ricevute a seguito del sisma del 2009, perché ci sono somme molto importanti, arrivate all'Als di Pescara e alla destinazione di queste risorse. Bene, tutte domande legittime e lecite per appunto svolgere a pieno delle nostre funzioni il nostro servizio per la collettività.